Blogosfere è a Casa Cioc Licensing Forum 2009, siamo in compagnia di Maria Romanelli, Vice President Teamworks. Buongiorno Maria e benvenuta su Blogosfere. Buongiorno, grazie. Ci può raccontare quali sono le sue impressioni a caldo su Casa Cioc, edizione 2009? Mi sembra che siamo in una location molto interessante, sicuramente è piaciuta molto ai visitatori, soprattutto quelli che vengono da fuori Milano, che non conoscevano, e questo ha sicuramente dato molto lustro all'edizione 2009. Ci racconta i prodotti di licensing di Teamworks? Sì, noi ci presentiamo con alcuni brand, quindi abbiamo Bella Sara per le nostre bambine, che ha appena lanciato la sua linea giocattolo, abbiamo Yaya che ci porta invece nel mondo del fitness e dello sport, dell'area libera, poi abbiamo il nostro inglese Scimmiettina With It, che ormai sta diventando molto famosa nel target delle ragazzine, abbiamo Mashimaro che arriva dalla Corea con tutta una sua catena di prodotti, ma anche festeggia i suoi primi dieci anni il prossimo anno, poi abbiamo Nici che direi è conosciutissimo, che oggi diventa licensing in un nuovo stile grafico e Bobby Pinn che viene da Jeffrey Fulvimari che è un grande designer della moda e che ha illustrato i libri di Madonna in America. In questo periodo di crisi economica come sta rispondendo il mercato, ovviamente nel settore licensing? Il mercato è sempre interessato a novità, è sempre interessato a sviluppare nuove idee, si rende conto che non può fermarsi, sicuramente oggi chiede un maggior servizio, quindi chiede un supporto ulteriore, non soltanto quello grafico ma anche di mercato, di co-marketing, di operazioni che possano giustamente supportare i loro uomini vendita, il marchio stesso e portarne il successo. Grazie, finite e a presto. Prego.